Canon, leader mondiale nelle soluzioni di imaging, è sponsor sostenitore e a supporto dei fotografi della 76esima mustra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia, grazie a CPS, Canon Professional Service, il cui desk si trova al terzo piano del Palazzo del Casinò, tra la sala conferenza stampa, la sala stampa dove sono presenti le stampanti Canon e lo spazio per il photocall. A spiegare come funziona Alberto Ciecoschi, Professional Imaging Manager di Canon Italia. CPS, Canon Professional Service, è un servizio che esiste in tutto il mondo, anche in Italia, e partecipa di supporto ai grandi eventi come la mostra del cinema di Venezia per supportare il fotografo direttamente sul posto di lavoro. Qui c'è una grande concentrazione di fotografi, come vediamo anche dalle immagini. Ognuno di questi fotografi può attingere al servizio Canon. In caso di emergenza, si guasta l'attrezzatura Canon, gli può offrire o una riparazione dove possibile, oppure dargliela in prestito affinché lui possa finire il servizio. E quindi abbiamo del materiale disponibile da far provare ai fotografi affinché possano utilizzare e capire dove va e come va avanti la tecnologia. La tecnologia digitale, soprattutto in fotografia, va molto velocemente. Quindi tutti i fotografi hanno la possibilità di testare qui anche le nuove macchine fotografiche. Per agevolare il lavoro dei professionisti delle immagini a Venezia, Canon mette in campo le proprie esperienze e competenze in ambito imaging, assicurando ai fotografi accreditati e ai professionisti della produzione video un supporto tecnico completo nell'area Canon Professional Service. Nel corso di tutta la mostra, i fotografi potranno infatti contare sulla consulenza del personale Canon e fare controllare il proprio equipaggiamento, corpi macchine e obiettivi, per avere la garanzia di lavorare con strumenti sempre in condizioni di massima efficienza. La mostra offre anche l'occasione per provare le ultime novità del grande ecosistema di soluzioni foto e video professionali, tra cui il rivoluzionario sistema Canon EOS R e ottiche RF che hanno ridefinito i confini della fotografia. Canon sostiene inoltre le attività della mostra internazionale d'arte cinematografica con le proprie soluzioni di manager print service, più di 40 stampanti multifunzione.